Dall'8 al 14 ottobre prossimi si svolgerà su tutto il territorio pugliese la seconda edizione del Festival Nazionale della Cooperazione Internazionale, promosso dall'AIFO e dalla Rete Italiana Disabilità e Sviluppo col sostegno di Regione Puglia. Anche per questa edizione l'obiettivo del Festival è diffondere ideali di pace e uguaglianza sociale attraverso il racconto di esperienze concrete. Alessandra Tursilli. Seconda edizione del Festival Nazionale della Cooperazione Internazionale, allora qual è il programma di quest'anno? Ancora appunto la seconda edizione, però il programma è ambizioso come quello dell'anno scorso, in quanto il retroterra del Festival è l'agenda dell'ONU 2030, cioè come raggiungere tutti quanti assieme, i paesi poveri ma anche i paesi meno poveri come l'Italia, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi noi abbiamo pensato, se ci riusciremo a seguire fino al 2030 l'agenda ONU nel suo sviluppo internazionale e nazionale e ogni anno quindi scegliere alcuni grandi temi. L'anno scorso il tema fondamentale era quello della disabilità che interessa un miliardo di persone nel mondo. Quest'anno i temi fondamentali sono la salute globale, con un accento particolare sulla salute mentale, il 10 ottobre che è la giornata mondiale della salute mentale e l'ambiente, inteso in maniera molto articolata e complessa e la giustizia sociale, quindi chiaramente è un tema molto largo. Il contributo fondamentale per l'analisi e la discussione di quello non solo che si pensa su questi temi ma è quello che si fa e che si può fare e che si deve fare per garantire i diritti umani e del pianeta. Il titolo che io ho immaginato è un festival per la cura del pianeta e per la cura dell'umanità è ovviamente un po' enfatico ma la sostanza è quella che dovremmo tutti impegnarci per lavorare su questo. In che modo l'Ampis partecipa a questo festival internazionale? Bene, la finalità dell'Ampis è quella di promuovere comunque la salute e quindi entra nell'obiettivo della salute globale attraverso uno strumento, lo sport, che viene utilizzato soprattutto per favorire quella integrazione a cui tutti noi ci dobbiamo dedicare rispetto alle difficoltà di persone deboli che oggi, ahimè, dobbiamo ancora dirlo, esiste una cultura un po' tra virgolette disumana in quanto non permettono di poter dare possibilità di un potere contrattuale inteso non solo come lavoro che è un giusto diritto di queste persone deboli ma anche quello che è la vera attività di normalità nella quotidianità della nostra vita. Con questa premessa all'interno di un contenitore così ricco della seconda edizione di questo bellissimo festival l'Ampis vuole dare un contributo importante perché la rete di cui è fondamentale oggi la nostra società intesa come realtà locali e non solo, anche a livello internazionale possano dal basso promuovere quelle azioni di benessere a favore di tutti i cittadini.